Questo è il completino La tana del frerito Ciao prederigno Chi è green ragazzi? Dai dai Scrivete non perdere il treno fidati Non dovrai più far vedere il culo per fare dei numeri Dai Chi è ragazzi scusate Basteranno anche solo le tette Greenbound Ragazzi non so chi è Dai Non perdere il treno mai il vizio Io ho schiacciato e non sono capace Per questa cosa Ciao 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 Grazie mille Ma come mai fare le live con quello di fuori? Non ho capito scudimi Sono surda te lo dico No non sono surda Ah no scusami Perché fai le live con il culo di fuori E i piedi di fuori? Perché boh Piace Ma lo fai perché ti piace a te o piacciono gli altri? Entrambi Ho capito Ho capito Ma Cioè Non lo so Spacca? Certo Ma tu quanti anni hai? 22 Ah sei 2000 2001 Ah come me cazzo Abbiamo la stessa età Sì Sì Ne ho appena fatti E cosa fai nella vita se posso chiederti? Faccio la content creator del sito azzurro Ah o f Sì Poi? Dopo faccio la modella In genere sono anche geometra Cioè ormai è diventato tipo Io faccio Holyfans E modella Ma Poi anche geometra tipo Cioè non è più il contrario Io sono geometra Io sono geometra Però dopo ho detto Ma sì facciamolo Virgolette Cioè ormai è la laurea Quella tra virgolette Porca vacca Dove siamo arrivati? Mamma mia Assurdo No scusami Sto un attimo Comuovendo Ma Dove sei? Dove sei? Sono nella provincia di Brescia Ah Conosci le mamacita caffè? Sì Davvero ci vai? C'è Natalia Amaini Una ragazza bresciana Oddio no Fai cocktail? So il posto So il posto Qual è? Fai cocktail Hai buoni eh Qual è il tuo cocktail preferito? La pignacolada Ah E vai spesso a ballare? Abbastanza Sì mi piace E vai a Milano a ballare O a Brescia? A Brescia A Milano non ci vieni mai? È solo in Brescia No Cioè è abbastanza lontano da me Un'ora e ventiquattro Anche di più Sono il figlio di Tom Tom Ci metto Scusate dimmi No niente Sì sì ho capito No 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 Ah number one Qua dicono Ah number one ci vai? Si conosco Steve Ah è un bro Sì Bene Tu ti chiami Mara giusto? Sì Bello come nome Mara Mi piace Grazie Sei un po' Ti vedo un po' Artacida No Sto leggendo quello che mi stanno dicendo No no ma easy easy È tutto nel chilling Perché ti vedo un po' Non so come si dice Un po' Carpita Non so se Ho reso Un po' Scarasta Non sapevo un'altra parola Per descrivere questa situazione Pirtivi Più o meno Tipo? Eh Non mi viene un sinonimo Agitata No 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 Sto solo rileggendo Ok Ok No ma tranquilla Non essere agitata Cioè comunque è una situazione Spassezza Cioè È una situazione Carpepide Non so come Tranquilla Tranquilla Cioè easy Easy Non è un problema Io devo essere sincero Ho capito doccia Pensavo che fossi quello finto Sinceramente Non lo so Uno a caso Che si chiamava come te Cioè? Cioè non pensavo che fossi tu davvero Ah perché mi conosci Greenbaud Sono io eh? Sì sì lo so Sono io? E dopo pensavo che fosse Che fosse un altro Cioè ne sei detto Boh magari è uno che si chiama Perché è la prima volta Che nelle mie live Entrano Si è scritto Mara.Urniani Con due in fondo Ho detto Cos'è se non c'ho C'ho il doppione Hai detto il tuo nome? Conosco Steven Sì sì È un bro? Del number È un bro È un bro eh? Sì sì lo so Vorresti fare l'amore con lui? No C'è la sua ragazza Conosco anche la sua ragazza Quindi Ok no bro eh Io vorrei fare l'amore con lui Ma senti un attimo Sono bello? Perché queste domande? No io non giudico Ma una persona Dall'aspetto Sono sincera Cioè io guarda Guardo sempre il carattere Come uno si pone Io non guardo Sono all'antica Su queste cose Ma sei per il sesso Dopo il matrimonio? No Quello no Sei per il sesso Prima del matrimonio? Sì Ti piacciono gli uomini? Sì Le donne? No Dipende Ma Cioè Pensi che in Italia Ci sia del maschilismo? Allora Per certi versi Sì Per certi versi No Oddio C'è C'è ancora la cosa Che se una tipa Fa determinate cose Se si veste in un certo modo E fa quel lavoro O è quello Cosa che assolutamente Non è vero Ovvero? Ovvero Che se uno Come ti ho detto Al sito che sto facendo Fa i contenuti È una Zoccola Quello che è È assolutamente vero Quindi Cioè poi Addirittura a volte Invece ci sono ragazzi Che comunque Usano questa scusa Che c'è del maschilismo Si sentono prese in causa E invece Non è assolutamente vero Ne approfittano molto Di questa situazione Ti fidanzeresti mai Con un tuo fan? No Con un phone? No perché Non Scusami Con un phone? Cioè Ce l'ho Ce l'ho Ce l'ho in bagno Quello Sono già fidanzata Ma vivi In un Dove vivi? Cioè in una casa? Sì È casa mia Comprata Da te? No Dei Dei miei genitori Ah Bella bella La famiglia La famiglia è il top Ho l'8% di batteria Tu? Aspetta Non dirmelo Non dirmelo Non dirmelo Voglio indovinare Allora dimmi solo se No Non posso vederlo Se scorri con il ditino sopra Non lo puoi vedere No perché si è bloccato tutto Oh E anche questo mese Sub Andate di nuovo Ok Non dirmelo Non dirmelo Non dirmelo Ok Hai guardato? Sì ho volato Ok è sopra o sotto 50? Sopra Veloce perché scende 61% No Di meno? Di più 75 Se aspetti ancora qualche minuto sì È 76? Esatto Io lo sapevo che eravamo collegati Dimoniamo? No 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 Cavolo Ragazzi avete ragione Aspettate due secondi Che dopo Facciamo Che cosa? Cos'è che stai facendo? Devo cambiarmi Mettermi la tutina di Spider-Man Faccio anche i cosplay Quindi vogliono vedermi con la tutina di Spider-Man Dai dai voglio vedere anche io Posso? Dai va bene Vai Dammi No Si può mettere in pausa Si sono ignorante in questa cosa in pausa con uno spettatore dentro Sì si può Allora No non so No Non posso metterli in pausa Vabbè Per forza metterli in pausa Niente Lascio così vado a cambiare Torno Mi facciamo molto prima Prego eh Oh 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 Spettatori di Mara Un organ Infatti un giochino Allora Appena torna La vostra amica Mara Vorrei che tutti Spammaste Hai qualcosa nel naso Hai qualcosa nel naso Fino a che E continuate a spammare Una roba nel naso Una roba nel naso Una roba nel naso Perché Lei Come se Cioè Fate vinta che aveva un capparo Vabbene Dai Bene Chissà Ah aspetta Oh Se tutti Se tutti stai masturbando Guardami Ok Ok Scusa Te l'ho rovinata Mi dispiace Bro 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 Ho già il 6% di batteria Bene 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 Dai vediamo questa tuttina di Spiderman Bene 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 Mi vuole dare moccia Va bene Ma se arrivo Questo è il completino Questo è il completino di Spider Non è la tutina Ma lo è cattivo Occhio eh Ok non vedo Va eh Occhio Occhio Un perozzo Dentro Un perozzo Mara Dicami Capperozzo Nel naso No non c'è niente È il mio piercing Che c'è fuori No 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 Vedo proprio il verde Del cappero Ma No 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 Non dice a destra Non dice a destra Guarda guarda lì Guarda lì No more Non c'è niente Mi prendete fuori Che dico Di divertente sta cosa Che dico Di divertente sta cosa Cioè l'ho bannato me Ma Ma io sono il fruitore Ma Ma l'ho bannato me Ma questo Ma non è possibile Mi vedete ragazzi Ma Ma Mi spiace Dopo 20 mesi di 7 3 7 3 7 3 7 3 7 Sì l'hanno bannato raga Mi è venuto fuori ma fuori Mi è venuto sotto che il presentatore è stato bannato Mi è stato bannato per attività sessuale L'ho stato bannato per attività sessuale Ma com'è possibile? Ma non è possibile questa cosa Ma si sta facendo dire tutto Ma non è possibile, dai No, ma qua siamo alla folla più totale Qua siamo alla folla più totale Una maschera di pelle sopra il viso Che mi culla Una vetrina sulle stelle Con la musica da ballare Una maschera di pelle sopra il viso Che mi culla Una vetrina sulle stelle Con la musica da ballare Da ballare Ho paura della fame